Ascolta la mia voce, vi invito a passare in mezzo alla gente, sanando e beneficando tutti. Ieri eri tu a tenermi per mano. Oggi io sostengo i tuoi passi affaticati e stanchi. A volte la vita toglie dei miei dolori. Basta una piccola rinuncia per donare calore, amore e speranza. Sei un bullo e credi di essere forte, ma anche se mi ferisci credendomi. Ti voglio bere perché sei mio fratello. Ci sono persone speciali, che spesso vedo ma non guardo. Da oggi non sarà più così. La tua felicità sarà la mia. Il diverso spesso fa paura. Solo accogliendolo scopro che è un mio fratello spaventato, lontano dalla sua famiglia, che ha tanto da raccontare. Restiamo isolati anche in mezzo agli altri. Tu non ci vuoi così. Ti seguiamo per fare comunità. Servendoti. Alzati, vava e non temere. Grazie a tutti. Grazie a tutti.